Professor Paruti, c'è timore, c'è paura in queste ore a Pescara per quanto accaduto a questo povero ragazzo di 21 anni, ma vogliamo spiegare come si trasmette la meningite e soprattutto questo tipo di meningite. Allora, questo tipo di sepsi meningitica, in realtà perché è stata un'invasione di tutti i tessuti, non soltanto delle meningi, è una malattia rarissima. Questo è bene che lo diciamo perché è determinata dal fatto che alcune, poche persone suscettibili all'ingresso del batterio attraverso le tonsille nel sangue, quando incontrano questi ceppi di batterio, specie se particolarmente virulenti, possono avere manifestazioni gravissime come quella che questo povero ragazzo ha avuto nella giornata di sabato. Ma la malattia rimane rarissima perché nonostante che magari parecchie persone nella collettività portino questo germe, coloro che sviluppano la malattia sono per fortuna solo una piccola frazione, quelli geneticamente meno difesi. Noi eravamo pronti alla possibilità che arrivassero nella nostra città i ceppi che hanno circolato di recente in Toscana, poi in Campania e da ultimo in Sardegna. Quindi avevamo pronto un protocollo particolarmente efficace, ma che nonostante la sua tempestività in questo caso non ha funzionato. Purtroppo in questa circostanza è stata una vera fatalità. Tutte quelle persone che sono state più o meno a contatto con questo 21enne nelle ore precedenti, la malattia, sono ovviamente preoccupate? È giusto che ci sia questa preoccupazione, quest'ansia? Allora, diciamo che è una giusta preoccupazione perché è una preoccupazione per la quale si ha una risposta certa. Se noi pratichiamo una singola dose di una delle due molecole farmacologiche che abbiamo a disposizione, dei due adimpiotici efficaci, abbiamo un azzeramento, non si può dire mai in medicina, ma abbiamo una riduzione prossima al 100% del rischio che se una persona si è esposta possa sviluppare la malattia. Quindi fondamentalmente chi ha avuto un contatto diretto con questo ragazzo nell'ultima settimana, nella settimana che ha preceduto questi eventi, se fa una monodose su indicazione medica di questi farmaci sicuramente non si espone a rischi aggiuntivi e si toglie un grosso pensiero. Stiamo frondeggiando l'emergenza grazie alla collaborazione di tutte le unità operative presenti in questo presidio ospedaliero, in particolare il pronto soccorso, in particolare le malattie infettive e il servizio di igiene pubblica sul territorio. Abbiamo attivato anche le guardie mediche per le attività nel giorno festivo del primo maggio e adesso i medici di famiglia, fronteggiando al meglio la situazione. È stata attivata anche un'unità di crisi che ha seguito ieri l'evolversi della situazione, fronteggiando tutte le emergenze possibili e si riunirà a breve per verificare il termine della situazione o eventualmente predisporre altre particolari situazioni.